Nelle scuole Umbre non è stato registrato alcun problema per le questioni legate al coronavirus. A dirlo a Lanza e Antonella Iunti, dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Tutti gli istituti, già prima delle circolari del Ministero della Salute e di quello della pubblica istruzione, si sono attivati per ricordare agli alunni le precauzioni necessarie da adottare. Sul fronte dei viaggi all'estero, Iunti ha spiegato che saranno i singoli istituti scolastici, magari avvalendosi anche dell'ufficio regionale, a decidere se affrontarli oppure optare per uscite all'interno dei confini nazionali. All'Università per Estranieri di Perugia, dove è importante la presenza cinese, raccordo tratteneo e operatori sanitari cittadini per eventuali controlli clinici sui nuovi iscritti provenienti dall'estero. La Regione Umbria intanto ha attivato una task force per affrontare eventuali sanzioni che dovessero manifestarsi sul territorio regionale. Solo nel caso in cui il medico riscontri i criteri sospetti, il cittadino entrerà di fatto nel protocollo per la gestione regionale dell'epidemia. Questo mentre si diffonde la sindrome da coronavirus e la fobia del cinese. Venerdì scorso un autobus Sulga proveniente da Roma con a bordo due cinesi è stato fermato per controlli sanitari dopo la segnalazione da parte di altri passeggeri. A tal proposito, per estemperare il clima, è di queste ore la lettera dell'imprenditore Brunello Cucinelli al popolo cinese una lettera di solidarietà e di speranza. Sono sicuro, scrive, che la soluzione sarà trovata. Sono sicuro che presto tornerà l'armonia per calmare i nostri pensieri.